Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come avete letto dal titolo 22 sta male, quindi ho cercato subito di correre ai ripari per salvarla. Potete vedere sto preparando una vasca in cui ho messo un areatore e in cui farò appunto dei bagni con questo medicinale qui che adesso vi farò vedere. E niente speriamo che guarisca, farò il trattamento anche a Platone perché anche lui non sta molto bene ed ha un fungo sulla testa che appunto potete curare con questo farmaco che ho fatto vedere prima. 22 soffre molto spesso per la ghiandola natatoria, infatti come potete vedere sta sempre così sulla superficie, però in questi giorni è peggiorata molto, quindi ho voluto fargli questo bagno per uccidere possibili batteri interni che non posso vedere. Comunque speriamo che la cosa vada bene, iscrivetevi per vedere come andrà a finire. 22 ti vogliamo bene, non mollare.